Buongiorno, benvenuti a questa segna stampa di oggi lunedì 11 dicembre. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. La cosa che più mi è piaciuta oggi ce l'hanno il Corriere della Sera e il Messaggero. Il Corriere della Sera è addirittura un'apertura della Sarzanini. La situazione è questa. Secondo quello che scrive questa sentenza del primo grado del Tribunale Civile di Roma, finalmente c'è un giudice a Roma più che a Berlino, una società ha visto la sua casa, il suo palazzo occupato nel centro di Roma e ha chiesto lo sgombero, la prefettura gliel'ha dato e non c'è mai stato questo sgombero del palazzo occupato. In più ha pagato luce, gas, danni, tutto quello che riguardava questo palazzo occupato. Il Tribunale Civile di Roma in primo grado ha condannato il Ministero degli Interni, cioè lo Stato, a pagare un indennizzo pari a 60.000 euro al giorno, mi sembra una cosa di questo tipo, 56.000 euro al giorno, sostanzialmente come si legge sul messaggero, 7 milioni di euro perché non hanno sgomberato il palazzo e come è mancato in troito i costi che hanno dovuto subire questi privati perché il loro palazzo non è stato sgomberato. Sono certo che ci sarà una sentenza di appello che ribalterà purtroppo l'ottima sentenza di primo grado, l'ottima come principio, ovviamente non conosco la sentenza nel suo merito, ma il principio è che la proprietà privata è inviolabile. Perché noi vogliamo che ci sia lo Stato? Perché noi pretendiamo che ci sia una magistratura? Perché vogliamo che ci siano delle leggi? Perché si difenda la proprietà privata dei singoli rispetto al soppruso dei molti? E questo è il motivo per il quale un liberale vuole uno Stato, non è che lo vuole perché vuole regole, burocrazia, vuole semplicemente che vengano tutelati alcuni diritti naturali e la proprietà privata, che verbo liberale, è un diritto naturale. Quindi se lo Stato condanna lo Stato stesso perché non è stato in grado di difendere il privato cittadino nella sua proprietà privata, non fa altro che eseguire e rispettare il compito fondamentale per cui noi liberali accettiamo lo Stato, cioè far rispettare la legge sul diritto di proprietà. Non so se sia stato abbastanza chiaro il mio ragionamento, quello che è chiaro è che questa è una buona, buonissima notizia, che per una volta, nonostante quello che ha detto Orlando, il Ministro della Giustizia disse a suo tempo che la proprietà privata deve essere subordinata alla sicurezza negli sgomberi, questa sentenza del Tribunale Civile di Roma dà torto non solo a Orlando, ma a tutta quest'area un po' socialista del concezione del diritto di proprietà. Grasso ieri fa un'intervista a Fazio in prima serata su Rai 1 e dice sarò io a guidare il partito liberi e uguali, lo faccio da una vita, non so cosa faccio da una vita, se guidare D'Alema è quello che lui fa da una vita, non mi risulta, quello che lui fa da una vita è fare il magistrato, non tanto guidare un partito che è una cosa un po' diversa, anche se D'Alema mi ha detto che è una cosa che lui sa fare benissimo. Comunque sia, ieri ha dato quest'idea di essere l'uomo un po' gradasso, sono io, voglio vedere lui come alla fine si metterà a guidare l'uomo più antipatico della Terra, come D'Alema risulta essere. Poi spera molto che arrivi la Boldrini, cosa che probabilmente avverrà, e quindi ieri presentando il simbolo liberi e uguali, dopo la I hanno capito, forse gli aver fatto una piccola gaff, e hanno messo una specie di stilizzata E, come per dire libere e uguali, non solo liberi e uguali, perché se no, insomma, se fosse stato così, questa libertà fosse stata così senza genere femminile, sarebbe stato un po' un problema per la Boldrini arrivare lì. Beh, insomma, questo partito che è fatto dal Presidente della Camera, dal Presidente del Senato, dall'ex Presidente del Consiglio, dall'ex segretario del partito democratico, Bersani, D'Alema, Grasso, e cosa che dia questa sensazione di novità e di anti-establishment, a me fa un po' ridere, come ho cercato di dire a D'Alema che mi ha ridicolizzato, insomma, l'idea di vedere Grasso con i gruppettari no tab, no tap, che forse non sono tutti nel Movimento 5 Stelle, fa abbastanza sorridere. Un'altra cosa invece politicamente più interessante, che a precisa domanda dice, beh, il tesoretto dei consensi che noi guadagneremo, poi potrà essere utile dopo il voto. Cosa vorrà dire il magistrato Grasso? Forse dà un messaggio su quei 20-25 parlamentari che farà la Camera, secondo i sondaggi che potranno poi essere utilizzati dal PD, o dal Movimento 5 Stelle, o da chi per loro. Fantastico oggi il pane bianco su quelle della sera, in un fondo in cui scrive quel 29% che dovrebbe prendere il Movimento 5 Stelle, in realtà ha sempre rappresentato quel 29-30% che aveva nella Prima Repubblica il Partito Comunista. Cioè in Italia c'è una fetta di persone, c'erano anche nel Miss, c'erano anche nella democrazia cristiana, c'erano anche nei socialisti, ma sostanzialmente c'è una fetta del 30% che va in un solo partito, nella Prima Repubblica e nei comunisti. Oggi nel Movimento 5 Stelle dice pane bianco che hanno in orrore la democrazia liberale. Questo è il punto di vista di pane bianco. Torna a far parlare di sé Piff. Piff io non lo conosco bene, so che è un regista che è acclamato perché ha fatto nel 2014-2015 una storia, un film sulla mafia che ha avuto grande successo dalle persone che se ne intendono, cioè non il sottoscritto. È stata una Iena di Mediaset e cose di questo tipo. Però oggi si lamenta perché scrive al Corriere della Sera quanto fango su di me, una letterina che peraltro il Corriere non gli dà grande spazio, perché il Corriere poi fa il Corriere sempre e con chiunque, e questa letterina, tranne che non si tratta di un giornalista che lavora la sette, che in questa fase ha grandissimo spazio, Piff fa una letterina al Corriere della Sera in cui dice fango su di me perché non sono andato alla Leopolda e per avere qualche like, non so se si rivolgeva a noi o comunque a qualcuno che lo ha insultato su internet, mi dicono che sono un venduto e cose di questo tipo. Il punto vero è che Piff, non so se ha schizzi di fango, io certo non rispondo per gli altri, ma rispondo per me. quando uno come Piff sale sul palco della Leopolda e inizia a parlare, nel periodo in cui c'era Campodall'Orto, in cui c'era tutto quel giro lì di grandi uomini, degli intellettuali che stavano facendo la constituency culturale, c'era Brizzi, regista, c'era Gori, un altro uomo di televisione importante che è poi diventato sindaco di Bergamo, quando c'era tutto quel milie là, nella crescita tempestuosa di Renzi. E oggi non è che può dire quando non va alla Leopolda di oggi può mettersi a piagnucolare sul Corriere della Sera o tutti questi schizzi di fango perché dite se non altro, perché lui dice, vi dico schizzi di fango perché siete sul Corriere, se no direi schizzi di merda. In questa specie di ipocrisia per cui lui è tanto forte, forse sul Corriere non riesce a dire quello che vorrebbe dire, cioè schizzi di merda. Lui sostiene di essere oggetto di schizzi di merda perché va sul palco della Leopolda quando Renzi è forte, oggi non gli si può dire nulla, quando Renzi è debole perché lui non si presenta là. Eh no! Se tu fai il cineasta, fai il regista, fai l'attore, fai il DJ, te ne stai nelle tue discoteche. Ma se tu vai sul palco della Leopolda, qualcuno che alza il dito, scusami, ma perché quest'anno non ci sei stato? Ci sta! Non sono schizzi di merda, caro Piff, sono domande legittime che uno si pone. Tanto più che tu mi dici, oggi, una settimana fa, in un'intervista al Corriere della Sera, che avevi creduto nella possibilità di Renzi e di Grillo dall'altra parte di poter cambiare questo paese. Bastava andare a vedere invece quello che scrivevi quando andavi alla Leopolda. In una precisa intervista all'Espresso, nel 2014, quando Renzi era il grande vincitore morale, era il nuovo, c'eri tu, c'era Brizzi, c'erano tutti che stavano con Renzi. Nel frattempo, ovviamente, stava facendo fuori il programma modestamente che facevo io e il Rai, ma questo non c'entra nulla perché lì non c'erano schizzi di fango. La t'ammazzone e basta. Poi ha fatto fuori anche altri il Rai. Però, mentre tu andavi a Sanremo, avevi progetti, stavi lì sulla cosa, non è invidia, è sistema, è sostanza. Cioè, riuscivi ad avere quel grande consenso che derivava dalla tua Leopolda, scrivevi sull'Espresso, a una precisa intervista, il suo, il suo, tu dicevi, il mio sogno era Renzi, Premiel e Grillo all'opposizione, ti chiedeva. E poi diceva il giornalista, fatto! E tu dici, sì, fatto! Cioè, il tuo sogno era Grillo all'opposizione. Oggi mi spieghi esattamente il contrario, che invece Grillo e Renzi erano i tuoi due miti, un po' per avvicinarsi a Grillo. Sì, fatto, Renzi, ha deciso di fare il premier senza elezioni, Grillo si ostina a ottenere il 100% dei consensi e non combina niente. La politica ha avuto finalmente uno scossone. E allora non è che ti puoi lamentare se oggi qualcuno ti ricorda queste interviste, ti ricorda che stavi all'Aropolda, come te, come tanti altri, come tutti quelli. Giovanotti ieri si è vergognato di essere salito sul palco di Veltroni, di avergli dato la sua canzone. Fa sempre così, cioè quando gli artisti si mettono a fare politica o a fare, come possiamo dire, gli amici della politica poi se ne pentono. Ecco, uno dovrebbe pensare la seguente cosa, fate gli artisti e fate gli artisti e basta, non ce la menate con il... insomma, io mi ricordo sempre Battisti quando gli chiesero in una bellissima programma televisiva in bianco e nero e lui stava cantando emozioni, ma perché non dai un significato ai tuoi parole? Dio, ma io sono un cantante, ma che significato volete? Voi che state lì a dare tutti i significati alla vostra attività sociale, in realtà poi dopo due anni vi vergognate di quello che avete fatto e se qualcuno ve lo fa notare dite che sono schizzi di merda, straordinario. L'ultima volta che senti parlare di schizzi di merda e merda nel ventilatore era per la casa di Monte Carlo di Fini ed ho visto come è finito. La meglio gioventù oggi su Repubblica perché non lo mollo è Como, la gente di sinistra, quei ragazzini con i bandieri del sinistra rosse che stavano a Como a testimoniare il loro antifascismo e citando Carlo Levi Guido Krains dice Uomini nuovi, i giovani nuovi ripensano nuovi pensieri che sono nostri. Beh, di nuovo in resistenza in quelle minchiate che dicono. Tra poco vi farò vedere un video veramente significativo ve lo posto qua su Facebook e poi sul sito intero nicolaporro.it in cui vedrete questi giovani nuovi come erano vecchi quando si tratta di contestare i vecchi nuovi come panza. Ne parleremo tra pochissimo e poi direi che per oggi è tutto. Ultime due notizie beh, un po' da ridere arrivano le pagelle per gli statali premi legati al mercato rivoluzione della pubblica amministrazione questo titolo l'ho letto cento volte oggi c'è su Repubblica scusatemi sul messaggero mi fido poco di queste rivoluzioni della pubblica amministrazione così come oggi testimonia invece mi sembra la stampa che apre pubblica amministrazione pagamenti sempre un disastro siamo gli ultimi a essere pagati come fornitori della pubblica amministrazione tre mesi dietro al Portogallo e anche lì la rivoluzione dei pagamenti della pubblica amministrazione promessa da Renzi e dal suo governo sembra che non sia arrivata da nessuna parte ecco prima ci sono gli annunci sulle rivoluzioni della pubblica amministrazione dopo un po' di anni ci vuole la stampa o chi per lei per rendersi conto che queste rivoluzioni sono state un flop totale perché quando si annunciò pagheremo i soldi della pubblica amministrazione tutti i giornali rivoluzioni si pagheranno e poi si è visto dopo qualche anno che siamo l'ultimi in Europa nel pagamento delle fatture se a fatturare sono dei privati e a pagare dovrebbe essere la pubblica amministrazione ciao ci vediamo questa sera Matrix 105 su Radio 105 alle 19 e il sito nicolaporro.it non ve lo dimenticare condividete questo video fondamentale per avere sempre più diffusione per noi e per la zuppa sulla rete ciao grazie a tutti